Buongiorno a tutti e bentornati in questo nuovo video del Gobbo Toscano, buon martedì mattina, buon pranzo fra un po' per tutti quelli che pranzeranno presto e oggi dobbiamo parlare di una cosa che riguarda la Juventus da un certo punto di vista ma riguarda anche la nazionale, riguarda tanti argomenti concatenati l'uno con l'altro diciamo che a me della nazionale frega poco e niente però ai giocatori frega di partecipare a determinate competizioni con la maglia della propria nazionale quindi andiamo a leggere l'articolo di stamattina che riporta il portale jmania.it Allora la Juve non ci ha creduto e io non lo posso convocare, spalletti duro col top player e la reazione di Chiesa Allora il titolo è un po' acchiappa 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 perché fondamentalmente dice che fa capire che Chiesa non sarà convocata invece poi nell'articolo si legge che dato l'infortunio di Berardi Chiesa ha molte più chance di essere convocato però c'è un però, un però grosso non è certa la convocazione perché? Perché ovviamente Chiesa ha avuto un periodo difficile, lo sta vivendo ancora con alcuni problemi fisici e attriti con Max Allegri che ovviamente non lo fa più rendere al meglio e mettono in discussione anche la sua permanenza alla Juventus e la sua partecipazione al prossimo europeo Ora, ripeto, io commento questa notizia perché mi piace andare a cercare articoli un po' meno letti degli altri a cercare un po' nel deep web, chiamiamolo così, delle notizie e effettivamente, ora, so che nella nazionale non ci sono talenti del calibro di Chiesa se così lo possiamo definire, nel suo ruolo però è anche vero che se porti un giocatore e quindi ti giochi un posto invece di portare, metti un giovane italiano che può fare gruppo e dare continuità è vero che Chiesa in quella posizione esterno d'attacco ti rende tantissimo di più l'abbiamo visto quando la Juventus ha giocato ogni tre davanti in quei 7-8 minuti contro il Napoli ha fatto anche un gran gol può far male, può far male però c'è anche da dire che se puoi contarci solo a mezzo servizio allora diventa complicato ora bisognerà capire se questo mezzo servizio è dato da una condizione atletica scarsa, da una condizione fisica scarsa o semplicemente da attriti con l'allenatore cioè se il poco impiego di questa stagione è dovuto esclusivamente agli infortuni o anche per motivi tecnico-tattici e non parlo solo di modulo ma parlo proprio di attriti con Massimiliano Allegri perché è palese, è sotto gli occhi di tutti che Allegri abbia ridimensionato tanti di quei giocatori come è giusto dire che ne ha fatti esordire tanti ma sicuramente ad oggi non possiamo dire che è bravo nella gestione dei giovani soprattutto dopo il caso Nonge che è eclatante, come distruggere psicologicamente un ventenne basta fare così, lo fai entrare 14 minuti dopo un errore suo, che sa che è un errore suo, lo togli come dire che non è una punizione bene, era un discorso, un dettame tattico ok, un dettame tattico però lo fai in un altro modo non togli comunque quel giocatore lì che abbia sbagliato o meno perché un ventenne se lo togli dopo 14 minuti è ovvio che gli fai provare a prendere il volo e poi gli fai i tagliettini nelle ali per non farlo spiccare quindi io credo che alla fine Chiesa andrà in Nazionale verrà convocato e farà anche molto bene nonostante spero che la Nazionale faccia più pena possibile ma secondo me la cura a Spalletti sarà una cura fondamentale per il giocatore e ben venga per tanti juventini l'europeo perché torneranno con le prossime nazionali si alleneranno per un poco e giocheranno con le proprie nazionali e quando rientreranno e troveranno un allenatore diverso finalmente si saranno tolti un po' di quel fardello che Allegri lascerà lasciando la Juventus perché lascerà tante tantissime scorie è inutile girarci intorno, non ci prendiamo in giro Massimiliano Allegri li sta facendo fuori uno dopo l'altro quei giocatori che possono dare di più li sta facendo fuori uno dopo l'altro ora ovviamente ci sono anche problemi dei giocatori stessi perché ripeto non do la colpa all'allenatore se Vlaovic sbaglia davanti alla porta per carità, per tre volte non si è utile per carità, lì è colpa di Vlaovic e Vlaovic si prende responsabilità non do la colpa a Allegri sul rigore causato da Nonge perché è colpa in Nonge e anche lì lui si prende le sue responsabilità con un post allora però quando c'è da prendersi le proprie responsabilità cioè Massimiliano Allegri cosa ha fatto fino ad oggi a parte scaricarle sui giocatori e soprattutto sui giovani perché in questo momento è una comfort zone per Massimiliano Allegri perché non ha delle prime donne importanti nella Juventus sono tolti Chiesa Vlaovic Bremer è molto nelle sue Danilo sta zitto perché sa che gioca solo perché c'è Allegri nella Juventus perché ora permettetemi tutto ma quando sento cantare la curva c'è solo un capitano a Danilo mi viene da ridere poi Danilo parliamone è un giocatore ormai in fase calante ormai da un anno buono dall'anno scorso abbiamo lui va bene abbiamo anche altri ma non si fanno giocare perché ancora non sono pronti secondo il nostro Megamister Megamister mi piace però ragazzi ha fatto tutto quello che si poteva fare per non far non prendersi le colpe e non far ricadere un minimo di colpe su di sé cioè anche l'altro giorno ha detto il problema della Juventus non è Allegri o non Allegri ma è uno dei problemi non riduciamoci a dire che è l'unico problema ma non diciamo che non è il problema attualmente perché anche lui con il suo procuratore Branchini ovviamente ci mettono del loro ad alimentare anche polemiche nonostante ce ne fossero già tante come se ce ne fossero poche loro mettono il carico da 90 sulle dichiarazioni e vanno avanti secondo me ormai è diventata una situazione praticamente insostenibile per i giocatori per la tifoseria ma anche per l'allenatore stesso se dobbiamo vedere l'allenatore stesso secondo me starebbe molto meglio da un'altra parte è che lui sa che oggi può dire quello che vuole non c'ha dei senatori che come una volta facevano oggi non gli possono dire più niente perché tolto anche Bonucci bene ben venga sei andato via Bonucci ma non hai più nessuno che ti metta i bastoni tra le ruote e che ti faccia capire gli sbagli che fai non c'hai più nessuno non c'hai quei chiellini quei buffon non c'hai nessuno non c'hai nedved in dirigenza non c'hai nessuno è una dirigenza che non capisce di calcio se non Giuntoli Giuntoli è da solo come un cane e Allegri c'ha Giuntoli contro Allegri e basta la proprietà men che meno non ci sono uomini di calcio apposta appositamente per far decidere tutto Allegri i giocatori sono la maggior parte giovani che non possono dire niente perché fondamentalmente non hanno mai vinto alcuni non hanno mai vinto niente e quindi lui c'ha tutto il potere nelle sue mani ha questo potere decisionale fuori di testa è diventato una monarchia alla Juventus una monarchia allegriana una dittatura allegriana cioè una roba assurda come non si possa replicare a questo allenatore i giornalisti devono stare dalla sua perché altrimenti non vendono o altrimenti giorno dopo non non fanno più l'articolo l'hanno fatto oggi bene se uno gli fa una domanda scomoda in conferenza il giorno dopo non lo trovate quel giornalista a fare una domanda capite che è una roba assurda è una roba assurda tanto quanto è assurda la marotta league perché quando c'è da dire c'è da dire e oggi rifaremo un video anche su quello non mi dilungo ora perché ora stiamo parlando di Juventus di Juventus di Nazionale di Spalletti di Allegri però questa sua comfort zone diciamo è ovvio che poi dimettiti lo dico anch'io e non si dimette no perché dove la ritrova una squadra senza prime donne di un certo livello che gli permettono di fare qualsiasi cosa e invece in altre squadre gli avrebbero detto anche no ci sarebbe stata una ribellione totale verso l'allenatore dopo tutto quello che sta facendo e poi avevo continuato a dirmi ma come si può criticare un allenatore che è secondo ma stiamo vedendo che la Juventus in un campionato normale con i punti i 5 punti su 18 che ha fatto doveva essere massimo quarta se andava bene in questo filotto di partite doveva essere massimo quarta e perché è seconda perché dietro fanno ancora peggio se non in Bologna si sta sta facendo in massimo ma era tanto indietro la Roma idem sta facendo in massimo ma era tanto indietro il Milan va a folate di vento l'Atalanta non ne parliamo e Bologna e la Roma sono quelle più ora sul pezzo secondo me faranno una seconda parte di stagione importante però è difficile ormai farle arrivare in quelle posizioni che contano per la Champions League quindi dobbiamo solo dire grazie agli altri non dire bravi a noi perché ripeto come hanno sbagliato i giocatori perché loro pagati devono dare tutto comunque chiunque ci sia in panchina c'è una società che dovrebbe dire basta la situazione è insostenibile però la società gli fa comodo probabilmente tenere Allegri perché questo tenere Allegri sta portando in questo momento dei risultati catastrofici alla Juventus anche per la questione di Borsa perché piano piano si sta ritornando a riscendere non forte come prima ma dopo eravamo risaliti si sta ricominciando lentamente a scendere se questa cosa dovesse portare le azioni a scendere ancora di più sappiamo bene quanto gli faccia comodo a Gianelca per poi rivenderle azioni che ha cioè ricomprarsene tutte scusate azioni che ha venduto a un a un dieci volte sette volte tanto le ricompra a un settimo un ottavo un nono un decimo fateveli voi i conti e fatevi anche voi le domande scrivete qui nei commenti mi raccomando quello che ne pensate lasciate un like iscrivetevi al canale condividete il video e attivate la campanella per non perdervi i prossimi aggiornamenti mi raccomando fino alla fine Forza Juve ci vediamo oggi pomeriggio con un prossimo video top ciao ciao